C'è una forza straordinaria dentro ognuno di noi. Una forza che ci unisce e ci rende migliori. È qualcosa che il denaro non può comprare. Un atto di amore libero, che ci dà la possibilità di offrire il nostro tempo, le nostre energie, i nostri sentimenti, una parte di noi. Perché la felicità non deriva da ciò che abbiamo, ma da quello che possiamo dare agli altri. Il dono è un semplice gesto quotidiano che diventa memoria indelebile. E i ricordi sono legami preziosi e potenti. Ci parlano e restano impressi nella nostra memoria per sempre. Adesso è il momento di alzare lo sguardo per vedere il mondo con occhi nuovi. Perché solo cambiando il modo di vedere le cose è possibile cambiare la storia. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.